Roma, che specialmente in questi tragici tempi vi è sempre stata vicina, anche perché la bellezza e la multiculturalità sono fra le tante storie che ci accomunano, ha sostenuto fin dall'inizio e con grande convinzione e determinazione la vostra candidatura a patrimonio dell'UNESCO. Siamo orgogliosi di avere contribuito a questo risultato. Grazie all'UNESCO è ora preciso dovere di tutti proteggere i vostri tesori. Roma, con i suoi restauratori, architetti, artisti, atenei, istituzioni culturali, con tutta la sua cittadinanza, sarà in prima linea mettendo a disposizione non solo la sua vasta esperienza ma anche la sua fraterna solidarietà. Care cittadine e cittadini di Odessa, la vostra città è libera, è europea, è universale. Alla fine di questa terribile guerra, causata da un'aggressione ingiustificabile e scellerata, lo sarà ancora di più. Fino ad allora saremo con voi per preservare la vostra città, la nostra splendida perla del Mar Nero. Coraggio Odessa, coraggio Ucraina, un affettoso saluto da Roma.